E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterset Crypto, io sono Emiliano e anche questa mattina andiamo insieme a fare il nostro consueto Morning with Crypto, l'appuntamento che ci accompagna ogni mattina dal lunedì al venerdì per quello che riguardano gli aggiornamenti della notte, quello che è successo appunto all'andamento del prezzo della notte, quello che sono le news di mercato e quelli che sono i principali gainers e losers su CoinJacko in modo tale da prendere la top 100. Detto questo ragazzi se siete nuovi mi invito a quello di lasciare un bel mi piace anche se siete vecchi al canale e a questo video appunto mi aiuta tanto e iscrivervi se qualora non lo foste ancora perché mi aiuta davvero tanto. Detto ciò partiamo, date un'occhiata al link e trovate questa descrizione ed ecco la prima news, prima news che in realtà riguarda Microsoft. Ora quando leggo queste news credo sempre, mi chiedo sempre ma come facciamo spesso a non capire e ad essere negativi sul futuro di questa tecnologia e di Bitcoin ma principalmente della blockchain? Perché tutto fa capire ragazzi che si va in questa direzione, ora io non voglio dire che non sto parlando di prezzi ok? Sto parlando di tecnologia in questo caso. Microsoft Corporation sta cercando un direttore del sviluppo blockchain per sviluppare l'infrastruttura ok? Per procedere col web 3.0 ok? Tutte queste cose ragazzi non sono improvvisate, cioè quando aziende come Microsoft, come Google, come tantissimi colossi continuano ad assumere persone di quest'ambito o continuano a sviluppare in quest'ambito è perché non vogliono rimanere indietro, è perché sanno dove si andrà il metaverso, cioè solamente la storia del metaverso ragazzi vi fa comprendere come sia tutto blockchain, sia tutto Bitcoin da un certo punto di vista. Quindi rimango sempre molto sorpreso quando leggo certe cose o comunque che ancora in Italia siamo a livelli a volte anche imbarazzanti leggendo alcune cose in giro, rimaniamo indietro se non ci adattiamo velocemente. Queste aziende qui, come Microsoft, Google, ve l'ho già detto questi nomi qua, non scherzano e vanno come un treno. Infatti ricordiamoci anche l'acquisizione di Microsoft da parte, o meglio l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft ok? Questo per cosa è stato acquistato? Activision Blizzard, casa appunto di gaming per sviluppare metaversi ok? Quindi capite in che direzione si va e è stata, ricordiamoci, acquistata per 68.7 billion, ok? Quindi non patatine, non noccioline. Quindi io ogni volta credo, no? Cerchiamo sempre in Italia di essere, di cercare di essere un po' i più furbi degli altri, a cercare di tassare eccetera eccetera, che va benissimo. Io sono a favore, nel senso, credo che una regolamentazione possa essere utile a tutti, ma cerchiamo anche di investire in questo settore invece che cercare solo di limitarlo. Questo è sempre il mio augurio per un paese che secondo me può fare tanto e ha sempre tante, e ha all'interno secondo me tantissimi talenti. Ma se non ci adattiamo, se non capiamo che la tecnologia va più veloce e noi non stiamo dietro la tecnologia e cerchiamo solamente di limitarla, ragazzi mi spiace dirlo ma non si va da nessuna parte. Quindi questo è il mio sfogo delle 7 e 15 circa di mattina. Invece chi non si vuole, non vuole rimanere indietro, effettivamente è la Russia, ok? Perché si parlava tanto della Russia, di questa situazione, la volevano bannare, la banca centrale russa voleva bannare le cripto, però poi non è stato così e infatti si è arrivato all'esatto posto. Infatti è uscito sul quotidiano Commerzance, che è un quotidiano russo, come la banca di Russia stia per adottare Bitcoin, o meglio più che adottare, per riconoscere Bitcoin come una currency, ok? Ufficialmente riconosciuta, ok? Questo non vuol dire che sia una legal tender, ok? Come il Salvador, lì penso entriamo in altri discorsi, però la vogliono riconoscere in quanto valute e non come asset finanziari e questo potrà portare poi a una regolamentazione ancora più chiara, ok? Perché? Perché assoggettandola a una cripto, scusatemi, a una valuta, come Bitcoin può essere associato al dollaro, all'euro, a qualsiasi altra cosa, ok? A quel punto sarà molto più facile inquadrarlo, sarà molto più facile chiarificare tante cose. Prima anche qui era pensato come asset finanziario, invece se si assoggetterà a valuta sarà un'ottima cosa. Questo articolo riporta appunto questa indiscrezione e si crede appunto si arrivi in rapidi tempi alla conclusione, anche perché ricordiamo che la Russia di per sé è uno dei paesi che è più inserita all'interno di questo settore. Pensate che appunto i russi holdano più di 2 trilioni di rubli in crypto assets, ok? Quindi avevamo già discusso che erano veramente molto molto presenti nel settore, quindi capite bene che qui la scelta che aveva la Russia davanti è rimanere indietro o accettare il futuro e adattarsi e regolamentarlo per portarlo a proprio vantaggio, quindi non a bloccare il settore. Questo secondo me è la scelta sempre migliore. Detto ciò andiamo a vederci i nostri gainers delle 24 ore. Poi troviamo Waves più 10, 3, Booksecret più 10, 9, Flow più 10, Cadena più 8, Harmony più 9, Errand più 7, Hardware, Chillitz. Insomma, vedete, ne abbiamo abbastanza, ma allo stesso tempo non abbiamo così tanti losers se non l'io, ma l'io sappiamo il motivo per cui aveva pompato e quindi è anche facile che arrivate a quel punto, l'ottica speculativa un attimo inizia a cadare e quindi si scende, però abbiamo i 8 a un meno 4, Zcash, Decentral, un meno 3, però vedete praticamente no losers, no losers, quindi è stata una giornata abbastanza positiva, ok? E questo deriva dal fatto che nella giornata di ieri siamo andati, nonostante questa doge, nonostante appunto un momento di scarico, siamo andati a mantenere bene la 50, in questo momento avevamo chiuso addirittura in positivo con un più 0,76, abbiamo fatto un'altra candela con un'escursione abbastanza ampia, oggi abbiamo aperto leggermente in scarico, ma anche qui rimane ragazzi totalmente in bull flag, ok? La situazione quindi non è una situazione da analisi tecnica, quindi non vi sto dicendo cosa accadrà, non ho la pretesa di saper leggere il futuro, ok? Non credo nessuno possa farlo, però rimaniamo in una situazione comunque di uptrend, ok? A livello non settimanale chiaramente, e dobbiamo trovare lo giornaliero, però rimaniamo su una situazione buona, ok? A livello di orario abbiamo trovato supporto appunto sulla 50, abbiamo avuto questo scarico un po' più forte alle ore 3 del mattino, ma con volumi non eccezionali, ok? Quindi lo vedete anche così su questa scala, non c'è stato niente di che, ci stiamo un po' stringendo, anche in un equilibrio, non voglio mettermi a tracciare triangoli o trendline, perché è ancora un po' presto, però volendo potete anche tracciare una trendline di supporto, però magari lo commentiamo meglio questa sera, abbiamo fatto una sorta di double top, vi direi più che di una trendline anche qui, vediamo un attimino, potrebbe essere anche un triangolo ascendente che potrebbe rompere a rialzo, lo scopriamo appunto poi questa sera, perché poi io vi aspetto lì con l'appuntamento di live, quindi oggi è giovedì, ci vediamo in live, alle 19.10. Detto questo, andiamo a vedere la total, total 1.97 trillions, quindi rimane comunque in una sorta di consolidamento, ok? Quindi abbiamo fatto un ottimo spike rialzista, se rimaniamo in queste zone qua di 2 trillions va bene, dobbiamo puntare a quel punto a recuperare la 200, quindi queste zone qua di 2.10 e 2.12 per stare un po' più in conferma, mentre la dominance rimane sideways, ma che comunque rimane in forza, ok? Quindi dominance che assolutamente non dimostra particolare debolezza. Sarà poi nostra premura analizzare tutto nel dettaglio questa sera, appunto come vi dicevo in live, che vi aspetto. Detto ciò ragazzi, io spero che questo contenuto sia stato di vostro interesse, di vostro aiuto, se così è vi invito a lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale col click sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati e noi ci vediamo appunto questa sera con la nostra live. Ciao a tutti ragazzi!